Salta l'Assemblea Sindacale, niente riunione per l'approvazione del bilancio dell'AMA, l'azienda per la mobilità aquilana. Una situazione di unpass che preoccupa i sindacati. A denunciarlo sono le RSA aziendali di Filt CGL, Filt CISL, Faisa CISAL e UGL all'indomani del rinvio e dell'approvazione del bilancio 2018. Un bilancio che, dicono i sindacati, certificherà una perdita di esercizio importante che potrebbe tradursi come soluzione estrema anche nella liquidazione dell'azienda, secondo quanto previsto dalla riforma a Madia sulle aziende partecipate. Se non si vuole rimedio a una situazione che non è più sostenibile, si rischia di vanificare un percorso lungo di anni. Noi, l'abbiamo detto nel tempo, questo non ci dà nessuna gratificazione, aver detto che bisognava prendere misure strutturali che fossero la fusione piuttosto che dargli un contratto di servizio sostenibile, quello attuale non lo è, per il livello di remunerazione. Questo non sta avvenendo, i lavoratori stanno nel mezzo, intanto i mezzi sono obsoleti e vanno rottamati man mano che vanno a revisione perché sono molti euro zero. E quindi l'azienda rischia banalmente di non essere più sostenibile. A settembre abbiamo forti rischi e preoccupazioni sulla continuità dei servizi e la repertura delle scuole. E con terzo bilancio in rosso che cosa comporterebbe? Beh, per effetti delle normative nazionali sulle aziende partecipate, terzo bilancio in rosso aprirebbe una procedura complessa che potrebbe portare o alla liquidazione dell'azienda o a misure draconanie sulla forza lavoro. Eppure qualche giorno fa l'assessora Mannetti con il presidente dell'AMA hanno illustrato novità positive per quanto riguarda l'AMA. Sì, ma noi non abbiamo più tempo per gli annunci, bisogna passare ai fatti. Noi abbiamo accolto con favore un piano industriale, ancorché con molti aspetti poco chiari, ma la cosa fondamentale era il nuovo contratto di servizio che riconoscesse ad AMA un conto standard diverso dall'attuale forfettario. Però da adesso bisogna passare ai fatti, quell'atto l'ha portato in Consiglio.